Alcuni episodi fa con Adamo abbiamo fatto una scommessa. Quando arrivi a senta ti immagino una pur così di rame. Stai? Va bene dai, scommessa fatta. Va bene, va bene. Adesso che ho raggiunto l'obiettivo non mi resta che rispettare la scommessa, ma prima sigla. Siamo al ristorante per i recenti iscritti. E le promesse vengono sempre mantenute con me. Ed ecco il ramen della scommessa. Anche Adamo ce l'ha. Buon appetito Adamo. Buon appetito. Ai miei iscritti, buon appetito. Itadakimasu. Itadakimasu, buono. Quasi è finito. Buon appetito. Itadakimasu! Itadakimasu! We have finished the wedding! Good evening! bella serata si la rifare oh quando arrivi ai 200 no no basta 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 quando arrivi ai 200 si mangiano i panini al vapore si prendono solo quelli nella serata si conclude qui la sfida l'ho portata a termine e noi ci vediamo non mi resta che salutarvi noi ci vediamo ad un prossimo video ciao